Ciao bimbi, come state? Oggi è martedì, si cucina di nuovo. Questa è la settimana della presentazione di Ginevra, quindi vi manderò un tutorial di come si fa la focaccia bianca, perché è uno dei suoi cibi preferiti. Siete pronti? La focaccia bianca ci servono 400 g di semola rimacinata e 100 g di farina, che uniamo insieme e mettiamo. Uniamo 350 ml di acqua tiepida e facciamo sciogliere dentro il lievito, 5 g. Ho sciolto il lievito dentro l'acqua, lo rovesciamo dentro la planetaria e pian piano poi iniziamo ad aggiungere la farina con la semola. Nell'impasto aggiungiamo 2 cucchiai di olio, un cucchiaio di sale e un pizzico di zucchero. Una volta che la planetaria ha terminato di amalgamare gli ingredienti, mettiamo un goccino d'olio dentro un recipiente e tiriamo fuori l'impasto dalla planetaria. Una volta tirato fuori l'impasto dalla planetaria, lo mettiamo dentro il recipiente con un pizzico di farina sopra e lo lasciamo lievitare. Allora, bimbi, andiamo a togliere l'impasto dal recipiente. Guardate quanto è lievitato. Prendiamo un pizzico di farina e lavoriamo l'impasto. Dopo aver ricoperto la teglia con un foglio di carta da forno, la cospargiamo di olio. Una volta sistemata la pizza sopra la teglia, la bucherelliamo con una forchetta. E le mettiamo un goccio d'olio sopra e un pizzico di sale.